Elisa Ansaldo e Augusto Minzolini. Elisa Ansaldo è una giornalista del Tg1. 10 o 15 anni fa lavorava al Tg1 assieme al direttore del Tg1 Augusto Minzolini. Poi Elisa Ansaldo assieme ad altri membri della redazione del Tg1. Elisa Ansaldo ha avuto da dire con il direttore Augusto Minzolini per cui Elisa Ansaldo si è dimessa dal Tg1. Si è dimessa dal Tg1 Elisa Ansaldo perché non andava d'accordo col direttore di allora del Tg1 Augusto Minzolini. In quel lontano tempo io, Serafino Massoni, avevo dedicato un pregiato video all'allora direttore del Tg1 Augusto Minzolini e in quel mio lontano video di una decina ed oltre di anni fa io profetizzavo che Augusto Minzolini avrebbe avuto dei brutti problemi. Io ho questo video di oltre dieci anni fa che io avevo dedicato all'allora direttore del Tg1 Augusto Minzolini. Beh, questo video ve lo metto come link riassunto di questo video. La novità è che Augusto Minzolini e poi non fu più direttore del Tg1. Mentre la giornalista Elisa Ansaldo è ora tornata a lavorare dentro il Tg1 da pochi giorni. È una bella e brava giornalista Elisa Ansaldo che una decina di anni fa aveva abbandonato il Tg1 dicendo che lei, Elisa Ansaldo, non andava d'accordo con il direttore di allora del Tg1 Augusto Minzolini, il quale per la verità non andava d'accordo anche con tanti altri redattori e soprattutto redattrici perché ci furono dei problemi tra il direttore di allora del Tg1 Augusto Minzolini e altri redattori e soprattutto redattrici, mica solo con Elisa Ansaldo, anche altre redattrici ebbero da dire anche sul piano giudiziario con Augusto Minzolini. Ora Elisa Ansaldo è tornata al Tg1, una questione di pochi giorni, pochi giorni. Invece Augusto Minzolini poi ha svolto altre attività ma ha avuto anche diversi procedimenti giudiziari. Beh insomma cari amici, il ritorno al passato, con questo video io ritorno al passato, a un lontano passato, quando io dedicai a Augusto Minzolini il video intitolato Tg1 il caso Minzolini e questo video intitolato Tg1 il caso Minzolini io ve lo metto come link nel riassunto di questo video così voi potete vedere ciò che io dicevo su Augusto Minzolini dieci anni fa e anche oltre e ciò che poi è successo perché ora la giornalista Elisa Ansaldo è tornata a lavorare sul Tg1. Bene cari amici, bene cari amici, questo è il passato che ritorna ma anche in questo mio romanzo storico c'è il passato che ritorna, capito? Augusto Minzolini, Elisa Ansaldo, redazione del Tg1, anche qua c'è il passato che ritorna, quale passato? Il passato del Terzo Reich perché questo romanzo Il Marinaio delle Antille è ambientato per l'appunto dentro il Terzo Reich, non è un caso che qua si vede da una parte la stella di David e la croce uncinata, Terzo Reich anche se il titolo fa riferimento alle Antille, per cui il Tg1, anche da parte della stessa Elisa Ansaldo, il Tg1 dovrebbe presentarlo questo romanzo storico, va bene? Non so se mi so spiegato, ok Elisa Ansaldo? Guarda cara che io sono tanto contento che tu sei tornato a lavorare al Tg1, invece Augusto Minzolini ha avuto tanto da soffrire, ha avuto tanto 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 da soffrire e io che Augusto Minzolini avesse poi dovuto soffrire tanto? Lo dicevo già nel mio lontano video, nel mio lontano video di oltre oltre dieci anni fa, ok, ok Elisa Ansaldo, ok Augusto Minzolini, ok Tg1, ricordati Tg1, presenta al pubblico questo mio romanzo storico il marinario dell'Antille, chi sono io? Eccomi qua, eccomi qua, Serafino Massoni, sono nato nel 1940, nel febbraio e presto compio 82 anni e sulla grande piattaforma mondiale YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, ok redazione del Tg1, ok Elisa Ansaldo? A tutti tanti cari saluti dal marinario dell'Antille.